ciao a tutti ragazzi sono fabrizio salvati della speedy brand il vostro consulente e commerce amazon allora oggi video top voglio regalarvi un prodotto che secondo me esploderà nei prossimi mesi un prodotto made in china che sta cominciando a vendere molto bene gli stati uniti è un forte trend e voglio regalarvelo quindi guardate il video fino in fondo mi raccomando però prima iscrivetevi al canale importantissimo mettete tanti like ovviamente cliccate sulla campanellina in modo tale che verrete notificati sui video che usciranno successivamente a questo allora ragazzi qual è il prodotto in questione ve lo faccio vedere subito andiamo a condividere il video scusate il lo schermo allora ragazzi sicuramente voi conoscerete il gua sha ok che cos'è allora questo è sul mercato italiano è praticamente il classico prodotto che serve per massaggiare il viso ok stiamo parlando di questo prodotto qui ragazzi ok che già si vende molto bene è un prodotto cinese pesa poco è perfetto per il mercato di amazon a che cosa serve serve per rilassare il video per per rilassare il viso quindi vedete realizzata in mano con pietra di giada è un massaggio per il viso che riduce il gonfiore facciale e rende la pelle luminosa e insomma se ne dicono molto di bella allora questo qua è un prodotto ragazzi che ho fatto un'analisi è comunque in buon trend sta aumentando negli ultimi mesi ok soprattutto negli stati uniti ma soprattutto sta crescendo una versione nuova del gua sha che potrete sicuramente andare a farvi votare in cina che è questo ragazzi è il gua sha elettrico se voi andate negli stati uniti e scrivete electric guascia praticamente c'è questo nuovo prodotto ok che secondo me nei prossimi mesi farà furore negli stati uniti e di conseguenza si comincerà a vendere anche in italia proprio questo qua ragazzi molto molto interessante potrebbe sembrare un prodotto ancora ovviamente inesistente in italia se andiamo a vedere in italia non esiste ragazzi si scrivete guascia praticamente ci sono solo questi qua però sta arrivando ecco tutto al più trovate questi qua in questa versione e come vedete di elettrico praticamente ancora non c'è nulla vi ho fatto vedere il livello delle vendite questa nicchia che di per sé già molto buono perché stiamo parlando di 158 mila euro come vedete non ci sono praticamente ancora quelli la elettrici ok se scriviamo guascia a elettrico vediamo un po che esce fuori eccolo qui ecco si comincia a facciare qualcosa ragazzi ma non c'è ancora il trend soprattutto non lo stanno vendendo prime adesso sta uscendo questo prodotto ok quindi entrare adesso su questo prodotto potrebbe diventare molto molto interessante questo è un grande regalo che vi sto facendo perché ho analizzato il trend con google trend ma anche con esplode in topics e vi assicuro che secondo me questo è un prodotto su cui si può assolutamente puntare peraltro a un ottimo prezzo quindi si può marginare molto bene ovviamente dovete farvelo arrivare dalla cina pesa poco quindi a tutti gli elementi per poter fare bene ok forse qualcuno in futuro mi ringrazierà per avergli dato questo questo prodotto ok come vedete ripeto è un prodotto abbastanza conosciuto nella versione quella tradizionale sono state fatte 3000 versioni però quell'elettrico secondo me ora delle ottime vendite a cominciare gli stati uniti fino ad arrivare appunto all'italia quindi ragazzi puntate su questo prodotto secondo me farà degli ottimi risultati chi entra adesso in questa nicchia dell'electric guasha potrebbe avere delle sorprese molto molto positive nei prossimi mesi se vi piace questa rubrica ragazzi la faccio più spesso ok quindi vi do dei prodotti in trend che possono avere delle potenzialità enormi nei prossimi mesi questo è uno di quelli fatemi sapere nei commenti se vi può interessare questa rubrica allora molti si chiederanno sì vabbè però fabrizio tu chi sei per dire che questo prodotto può funzionare vi ricordo che io ho fatto per almeno 25 anni il financial controller e il business controller manager multinazionale americana e faceva anche analisi di mercato quindi un po di trend insomma ne capisco ok e questo a tutti gli indicatori che promettono una certa crescita nel futuro è una differenziazione molto intelligente del guasha ricordo che nasce già su una nicchia che ha in italia solo in italia 120 k ragazzi ok e che in america andiamo a vedere allora in america ragazzi questo prodottino se prendiamo tutta la nicchia quindi togliamo guasha come avete visto in italia fa dei numeri interessanti per essere una nicchia italiana se andiamo negli stati uniti ve lo faccio vedere in diretta ha ancora di più dei numeri assolutamente portentosi stiamo parlando di un milione 373 mila ok in italia in italia abbiamo detto che non c'è però ve lo faccio rivedere perché andiamo a vedere pure un attimo un'altra cosa interessante in italia ragazzi fa abbiamo detto circa 158 mila ed è un'ottima nicchia ok è vero che è concentrata tra come vedete i primi competitor però c'è comunque una buona distribuzione del fatturato a tutti i livelli soprattutto questo non è presente quindi immaginate se voi fosse entrati in questa nicchia quando ancora non c'era questo strumento e si è formato il trend quindi ragazzi stiamo parlando di un prodotto che secondo me ha veramente delle ottime ottime prospettive ripeto fatemi sapere che cosa ne pensate io se volete una volta a settimana facciamo questa rubrica dove vi regalo un prodotto in trend o comunque un prodotto interessante lasciatemi lo scritto nei commenti ragazzi mi raccomando continuate a seguirmi iscrivetevi al canale clic sulla campanellina ci vediamo al prossimo video power come sempre